Il cordone sanitario applicato dalle altre forze politiche continua a tenere fuori dai ruoli chiave del Parlamento europeo i deputati di destra radicale, o almeno alcuni di loro. Tra i 14 vicepresidenti eletti martedici sono due esponenti dei conservatori riformisti europei, tra cui Antonella Sberna di Fratelli d'Italia, ma nessuno proviene dal gruppo Europa delle Nazioni Sovrane né da quello dei Patrioti per l'Europa, cheppure è il terzo più numeroso dell'Eurocamera. Gli altri gruppi si sono infatti rifiutati di votare per i candidati dei Patrioti, l'ex direttore di Frontex Fabrizio Leggeri e l'eurodeputata cieca Clara Dostalova. La strategia del cordone sanitario è considerata una violazione della democrazia da chi la subisce, come gli eurodeputati della Lega. Se il gruppo dei Patrioti è il terzo gruppo per dimensioni all'interno del Parlamento europeo, non l'ho deciso io, ma l'hanno deciso gli elettori. Per cui il fatto di andare contro la volontà degli europei, una volontà che è stata espressa democraticamente da milioni di elettori europei, penso che rappresenti una grossissima assunzione di responsabilità, oltre che una mancanza di rispetto. Cinque dei nuovi vicepresidenti del Parlamento europeo provengono dai socialisti, tre dal Partito Popolare europeo, due da Renew Europe, due dai conservatori, uno ciascuno dai verdi e dalla sinistra.